Il fatto che io debba ancora nascondere una cosa così importante, così naturale. Tina ha organizzato il matrimonio con me tre volte. L'ho chiamato in Spagna e ho detto non ci sposiamo più. Nel 2010, fine adesso, fine lunedì scorso, abbiamo stato sposati. Annullato il matrimonio. Annullato il matrimonio. L'annullamento del matrimonio che non ha esistito mai è stata una dispensa e per questo è valido. Perché il matrimonio canonico, perché abbia effetti civili, deve essere trascritto da entrambi i coniugi. Quindi senza quella firma di Gina, la trascrizione agli effetti civili non ha nessun valore. Io dico che la firma è falsa. E non si firmava mai Gina, si firmava Luigia o Luigia Gina. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Sapete che ci siamo occupati a lungo del caso di Gina Lollobrigida, ancora quando sono partite le prime denunce da parte dei familiari di Gina verso Andrea Piazzolla. Nelle ultime settimane si sta parlando molto di questo, perché è stato fra l'altro aperto il testamento. Il testamento, come ben sapete, è verso Andrea Piazzolla e a vantaggio anche di Milko, il figlio di Gina Lollobrigida. Ci siamo occupati di questo caso anche per parlare del matrimonio canonico che c'era stato e annullato dalla Sacra Rota con Aver Rigau. Il dottor Rigau, che anche grazie ai suoi avvocati, ovviamente vuole rispondere e fare sapere la sua verità alla stampa, alle televisioni italiane e anche a noi come trasmissione, che ce ne siamo occupati tanto. Noi, chiaramente, per correttezza, come abbiamo dato spazio ad Andrea Piazzolla qui in questo studio, oggi in diretta daremo spazio al signor Rigau, che è in diretta con noi insieme a Maria Grazia San Rocco. Lo salutiamo, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, Leonora, buongiorno, grazie a lei. Buongiorno, buongiorno. Allora, Maria Grazia vuoi iniziare tu e poi ovviamente ci sono una serie di domande. Noi, come ho detto in questa piccola introduzione, chiaramente ci teniamo a dare spazio ad entrambi le parti. C'è un problema col microfono mio? Eh? Messo bene? Ok. Ci teniamo, diceva, nelle imparzialità a dare spazio ad entrambi le parti, anche perché non ci dimentichiamo che in questo momento il signor Rigau si è costituito parte civile e si è nel processo contro Piazzolla dopo la denuncia dei familiari e soprattutto del figlio Milco contro Andrea Piazzolla, appunto che era, diciamo, una persona molto vicina a Gina Lolo Brigida e adesso c'è un processo in corso. Dunque, Maria Grazia, inizia tu. Sì, esattamente, Leonora, buongiorno. Buongiorno a tutti, noi siamo a Barcellona, siamo in questa casa meravigliosa, dove la signora Gina Lolo Brigida ha vissuto dei momenti unici e indimenticabili, come ci ha detto Javier, proprio dal momento in cui è stata acquistata, cioè dal 2003. Abbiamo detto che ci sono stati questi momenti, ma dobbiamo anche dire una cosa importante. Ad un certo punto della vita della signora Lolo Brigida il signor Javier scompare nel nulla. Per 13 anni non lo vediamo più neanche a Roma. Lui ha detto poco fa, proprio a me, chiacchierando, sono stati 13 anni terribili. Però noi tutti, anche in Italia, ci chiediamo, signora Javier, ma perché è scomparso in questi 13 anni, se davvero lei era così legato alla signora Gina Lolo Brigida, se diceva di amarla, come ha sempre sostenuto, e se era sua moglie, perché lei ha sempre sostenuto di essersi sposato con la signora Lolo Brigida. Perché apparire di nuovo, comparire di nuovo, essere presente accanto ai familiari il giorno dei funerali e il giorno in cui c'è stata la camera ardente. Prima di tutto devo sottolineare le mie scuse, perché io non parlo l'italiano per niente. Con Gina parlavamo sempre francese e inglese. Dopo il 2013 mi è visto costretto a parlare questa spezia di italiano, che sempre chiedo interprete, ma mi dicono no, no, lei si fa capire, allora no, no, è scelta. Allora, come già detto, questi giorni io non ho stato ausente d'Italia per 13 anni. Per contro, io praticamente tutti i mesi ho viaggiato a Roma per parlare con gli avvocati, con la famiglia e tantissime altre cose. Andato anche al Vaticano, alla Sacra Rota. Il rapporto con l'Italia è stato, come sempre, costante e continuo. Perché io devo ricordare che io ho stato l'ultima persona della famiglia che è stato vicino a Gina, fino al 2013. Perché nel 2011, che è stato quando Piacciola, plagiando a Gina, perché mai Gina con la testa posta avrebbe fatto lo che ha fatto. Ricordiamo che non si è ancora concluso il processo. No, 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 parlo dell'esfrato. Parlo dell'esfrato. Ha cominciato nel 2011, è un'opera integra di Piacciola. In quell'anno la legale storica di Gina, Giulia Citani, con bugie indecenti, è stata separata da Gina per parte del Piacciola. Quale sfratto, aspetta, aspetta, Javierra, mi scusi. A quale sfratto si riferisce? Perché io ne ho seguito uno in diretta. Credo fossimo stati proprio i primi, diciamo, ad occuparsi di questa vicenda. E, se non sbaglio, era il 2016, no, 2017. Lo sfratto di Dimitri dalla casa della signora della Dependance, chiamiamola, Dimitri, il nipote, Milko, il figlio della casa Dependance attaccata alla villa di Gina Lollobrigida. È questo sfratto a cui lei si sta riferendo o c'è un altro sfratto precedente di cui noi non abbiamo nota? No, sono contento che lei mi dà il tempo per parlare di questo sfratto. Una cosa è quando si fa la causa dell'esfrato, che ha cominciato nel 2011 e ha stato esecutivo, si ha fatto uscire dalla casa per i carabinieri nell'anno che lei dice, parlo dell'esteso sfratto. Questo sfratto, prima che Piacciola e le sue arrivassero alla vita di Gina, mai si aveva parlato di una cosa tan orribile come questa. Allora, nel 2011, si è iniziato tutto per il Piacciola. e le direi una cosa, Leonora, lo che è molto interessante è che le entreviste che ha dato Piacciola in tutti i canali, lei diceva no, che lui non voleva in assoluto l'esfrato della famiglia, perché l'esfrato non è stato solo per Dimitri, è stato per Dimitri, per il suo padre e per la madre di Dimitri. Sì, allora, in televisione Piacciola, no, 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 io non voleva, io le diceva a Gina di non fare l'esfrato, ma nel processo contro di me per matrimonio alla sua insaputa, no per truffa, per matrimonio alla sua insaputa, questo era il capo d'imputazione, lui davanti del giudice Roia dice che sì, che è stato lui come amministratore della Visi d'Arte che ha fatto l'estratto e quando l'avvocato mio Gentiloni le chiede ma lui non ha visto che era la famiglia di Gina Lollovida alla che si sfrattava, dice a me non mi importava perché io lo che volevo era guadagnare soldi con la dependenza, cosa che non si è fatto neanche dopo di sfrattare la famiglia. Allora, vabbè, queste chiaramente sono le sue il suo pensiero che non è ne quello del Piazzolla e ne di altre persone che erano vicine a Gina. Le chiedo questa cosa, perché lei, dottor Rigao, sostiene e pensa che nel 2011, cioè stiamo parlando, no, veramente di tanti anni fa, ma Gina potesse essere stata plaggiata dal Piazzolla. Perché sostiene? In base a che cosa sostiene questo? Ma che è questo campanello, scusate? Perché lo abbiamo vissuto noi. Sì, ma una cosa volevo acclarirle. Sì, non è che io dico. L'esfratto è stato fatto attraverso la visita d'arte e come era una società, perché la casa non era nome di Gina, si è fatto via comodato. Allora è una cosa che è stata giudicata, è documentata giudizialmente. Non è che Javier Rigao dica la cosa è stata così. E lei mi dice che come so che Piaciola è stato il protagonista. Lui lo ha detto davanti del giudice Roia. E per troppo tutto ha cominciato con una lettera, con l'assignatura Giorgio Bonini, che è falsa. Bonini già ha testimoniato che lui non ha firmato mai. E quando l'esfratto è andato avanti, è stato sempre con Piaciola. E quando lei, Leonora, mi parla degli amici che hanno stato vicini di Gina Lollobrigi da questi ultimi anni, si potrebbe parlare tanto di questi amici. Perché Geri mi hanno fatto vedere per sorpresa le immagini di Gina prima Piaciola, che mi è venuto un noto alla gola che non ho potuto praticamente ne parlare, e Gina dopo Piaciola, con Piaciola, sempre con il domestico accanto alle entreviste. Lei, che è una conduttrice importante, a quante artisti internazionali ha fatto le entreviste con il domestico accanto? Una cosa che l'ho mai visto, no? L'ho mai visto. Scusate, ma c'è un campanello? Controllo mentale. Ma che è sto rumore? Scusatemi, ragazzi. Ma che c'è un campanello? Sì. Che succede? No, 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 è un orloggio, un orologio. Ah, un orologio. No, uno. Uno, due, tre, quattro, cinque. È un collezionista, signor Javier. Ah, ne ha tanti di orologio. Scusami. Eh? Ne ha tanti di orologi. Va bene. Scusami. No, no, vabbè, no. Solo una curiosità, perché non capivamo da dove arrivasse questo rumore. Allora, no, io gliel'ho fatta un'intervista alla signora Gina Lolo Brigida, dottor Rigau, però ero all'interno della casa, ma io non ho visto personale di servizio. C'era solo quel giorno Andrea Piazzolla che poi andava e veniva. Io sono stata sola con Gina più volte. Le parlo però non degli anni di cui lei sta parlando, ma del 2017. Allora, io ho una serie di domande da farle, perché lei avrà visto la nostra trasmissione. Noi ci siamo occupati molto, diciamo, della questione giudiziaria. Abbiamo parlato a lungo anche con il suo avvocato Gentiloni e abbiamo una serie di questioni da porle adesso. Dunque, mettiamo questo autografo, quel famoso autografo di cui parlavamo anche ieri, l'autografo che Gina Lolo Brigida avrebbe fatto alla signora Pilar. Allora, in questo autografo, se me lo mettete in grafica, adesso lo vediamo così. Eccolo qua. Allora, a Pilar, l'ha poderata, giusto? Con molta simpatia. Io non vedo lo che lei mi sta dicendo. Vabbè, glielo leggo io, dottor Regao, glielo leggo io. L'ha poderata in spagnolo, che significa? L'ha poderata. Che significa in spagnolo? L'ha poderata. Lo che Gina ha fatto nel 2004-05 di agosto del 2010, quando ha venuto in aereo a Spagna con il suo legale italiano, anche organizzato con il suo legale di Madrid, è dare una procura specifica per fare il matrimonio con Javier Rigau. e si è fatto così per evitare l'escandalo quando lei ha organizzato il matrimonio con me nel 2006 per New York e nel 2007 per Roma. Allora, lei è venuto qui e ha dato una procura che in Spagna si dice poder. E la appoderata è la persona che la rappresenta e la ceremonia. La procuratrice, diciamo. Giusto? Con lei che ha una procura. La rappresentante fisica è nel momento di fare il matrimonio. Io le dico che sarà molto chiaro. No, no, gli rispondo che allora sarà chiarissimo. Quando Sofia Lorenz ha sposato con Carlo Ponti per procura nel 1957, che io non lo sapevo, Gina lo sapeva benissimo, mi ha detto che, sì, Carlo Ponti era in Mexico, Sofia, a Italia, e la persona che faceva depilar in quel matrimonio era un signore con un grandissimo mustache, che faceva di Sofia Lorenz. Qui a Barcellona è stata una signora e non un signore con mustache. Voleva fare come è successo alla Lorenz. Però questa è una storia un po' diversa, soprattutto perché oggi è una storia che è oggetto, è stata oggetto di un processo ed è tuttora oggetto comunque di verifiche e di processi in corso. Allora, io le dico... Leonora, il processo è stato vinto per me. Lo so, lo so. Leonora, devo sottolineare che il processo io l'ho vinto con formula piena. che è la soluzione più grande e la giustizia italiana. Ok, grazie. Io l'ho sempre detto qua, io non sono una che interpreta le cose, leggo le sentenze e quello è... quello che ho sempre dichiarato qua in questa trasmissione. Lei è stato assolto dall'accusa di truffa. Punto. No, truffa no, matrimonio alla sua insaputa. No, truffa perché... Truffa non era il capo di imputazione. Sì, però le hanno eliminato totalmente. Il capo di imputazione era avermi sposato alla sua insaputa. Dopo se la stampa... Sì, ma era per... Allora, non le hanno contestato nessun genere di truffa perché il giudice ha detto che la truffa, cioè il suo addebito economico di qualsiasi genere, non c'è mai stato. Cioè, in questo matrimonio che... Avete contratto lei e Gina Lollobrigida, secondo appunto le sue dichiarazioni, non c'è stato nessun addebito improprio economico, per cui il giudice l'ha assolta. Questo è il quanto. Va bene. Poi ce l'abbiamo? No, quella è la procura. Se poi riuscite con la sentenza, così la pubblichiamo. La sentenza di assoluzione dottoriga. Allora, mi faccio ritornare però su questa firma un attimo. Grafica. Eccola qua. Allora, perché Gina Lollobrigida avrebbe dovuto scrivere ad una persona... Chiedo silenzio in studio. Ad una persona che conosceva a Pilar la... Fra l'altro c'è anche una A lì, che sembra una piccola A aggiunta. L'A appoderata con la P maiuscola, quando appoderata non va scritta con la P maiuscola, perché, come lei ha appena definito, in spagnolo significa no, con lei che ha la procura, la procuratrice. Con molta simpatia. Cioè, perché scrivere con molta simpatia a una che si conosce e che deve fare addirittura la procuratrice del tuo matrimonio? In più, la cosa che salta un po' all'occhio di tutta questa faccenda e che contesta la controparte è questa. Rimettetemi la grafica. Grazie. A Pilar l'ha appoderata. Pilar non è il nome, è il cognome di questa signora. Eh? Si chiama Maria? Maria Pilar, poi c'è un altro cognome ancora. Perché avrebbe dovuto scrivere Pilar, che in questo caso sembra un nome, non un cognome, e l'ha appoderata sembra invece un cognome, motivo per il quale Gina Lollobrigida avrebbe potuto scrivere quella P maiuscola proprio in virtù di un cognome spagnolo. Ricordiamoci che Gina lo spagnolo non lo conosceva bene, comunque non lo conosceva per niente. E perché scrivere con molta simpatia ad una donna che obiettivamente se conosceva, conosceva molto poco, ma insomma avrebbe dovuto andare a fare la procuratrice al suo matrimonio. Cioè è una cosa importantissima. Perché? Uno avrebbe potuto scrivere con gratitudine. Con tante domande d'ontro che devo scrivere tutto prima per rispondere punto per punto a questa domanda. Allora, io procuro risponderle a tutte le domande che sono dentro di questa domanda generica. Prima di tutto, effettivamente, Gina conosceva a Pilar. Pilar è come Javier, come Francisco. È il prenome, non è nome di famiglia. Maria Pilar è come Javier, come Francisco Javier. Allora, lei mi sta parlando di un simple autografo, di una dedica, che Gina, nella sua borsa, non so come si dice, sempre portava fotografie. Lei, come Pilar, era la scelta per lei. Abbiamo scelto due persone. Una, che era una persona collegata con Juan Antonio Samarang, il capo del COI, del Comitè Olimpico Internazionale, che ha morto il maio di quell'anno, del 2012. Allora, il notario ha detto fa la scelta di due persone, persi una non può. Una l'avevo separato, perché il compagno era morto. Vabbè, parliamo della Pilar. Lo ha fatto Pilar. Sì, sì, ma lo che è importante è che questa scelta, davanti del notario, Gina ha firmato. Questo è importante, perché questo è stato fatto per periti calligrafe della Polizia Nazionale, della Polizia Autonomica, di tutti i parti. Allora, per esperti. Lei dice che aveva firmato davanti a tante persone. Lei dice che aveva firmato davanti a tante persone, non c'entra niente l'autografo. No, io li parlo adesso. No, 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 no. Io li parlo del documento ufficiale. Allora, l'autografo è una cosa che mi ha stato presentato a farsi la periziale, ma lei mi fa la domanda di perché Gina l'ha fatto a Pilar dedicare una fotografia come appoderata. Perché è una cosa che non è abituale. Ha stato appoderato Pilar per Gina. Allora, dopo conoscerci durante 20 anni ha fatto illusione a Pilar o a Gina o a Gina e a Pilar. Non lo so a farle questa dedica. Tu sei la mia appoderata? Come si scrive? E l'ha fatto. Ma era una cosa spontanea. Io non mi ricordo di quando se l'ha fatto perché erano loro due. Allora, è una pregunta che mi deve scusare, Leonora non è una cosa importante. È un autografo che Gina li dedica a Maria del Pilar per il nome Gimera, nome di famiglia. Dov'è il problema, Leonora? Non lo capisco. Guardi, per me non è nessun problema. Glielo dico, gliel'ho chiesto perché è uno dei punti. No, scusate per il mio italiano. Voleva dire dove è il misterio. Io non ho problemi. io le sto solo facendo delle domande. È il misterio? No, è il misterio. È il misterio dell'autografo. Dove è il misterio dell'autografo? Non è un mistero. Non è un mistero. Anche i misteri sono altri. È una domanda che le faccio perché siccome è uno dei punti su cui si basano molto le persone che in questo momento non la pensano come lei e sono convinte che quella firma ma non solo loro anche Gina mi mettete la dichiarazione di Gina Lollobrigida quando ha detto e dice quella firma mi fu estorta per error cioè mi è stata estorta non volevo fare non volevo scrivere quelle cose lì cioè era il filmato di prima dove? Che Gina? Dove? Gina diceva che quella firma le era stata estorta possiamo metterlo aspetta un attimo dottor Rigao aspetta che te lo mando mando in onda questa parte eccola qua firma questa è la firma ma poi sulla famosa procura non sull'autografo però loro utilizzano loro dico la difesa in questo momento utilizza quella firma dell'autografo dicendo è lì che è stata estorta la firma di Gina per poi metterla sulla procura va bene allora mandiamo in onda questo